Le formazioni ufficiali di Girona Atletico Madrid, andata degli ottavi di finale di Coppa del Rey 2018 fratto 2019. Gli uomini di Simeone, ritornano in campo nella Coppa Nazionale, con l'obiettivo di chiudere i conti già nei primi 90. I padroni di casa proveranno invece a ottenere un risultato positivo per giocarsi tutto nel match di ritorno. Il fischio d'inizio è in programma per le ore 1930 di mercoledì 9 gennaio alle Stadio Municipal dei Montilivi.Le formazioni ufficiali Girona 3421, Gokaira Isos, Ramalio, Bernardo, Alcala, Valeri, Douglas e Luis, Aleish Garcia, Moniesa, Peck, Scioccolozano, Dambia Atletico Madrid 4-4-2, andata. Gli uomini di Simeone, di Simeone, di Simeone, di Simeone, di Simeone.